La moda e il tessile hanno un impatto sull'ambiente che può raggiungere proporzioni catastrofiche in particolar modo il tessuto denim o i capi jeans possono causare delle vere catastrofi poiché la produzione di questi capi non è mai stata regolamentata e purtroppo sono state trovate troppo spesso dalle scorciatoie per abbattere i costi in favore di produzioni massimizzate e purtroppo di un inquinamento derivato molto molto grave. Per affrontare in modo positivo il tema della sovrapproduzione globale di capi di abbigliamento e di tessuti è necessario ingegnerizzare capi e tessuti in modo intelligente. Questo significa partire dal design del prodotto quindi dalla sua creazione. Noi abbiamo brevettato un tessuto e una tecnologia stretch basato su dei nuovi ingredienti. L'ingrediente che abitualmente rende elastico un tessuto è un elastomero di origine sintetica quindi un derivato dal petrolio. A noi è venuta l'idea di provare invece un materiale diverso, alternativo, rinnovabile, di origine naturale, quindi una gomma naturale che arriva dalla pianta del caociu, dell'evea. Per questo si chiama coreva. Core che significa centro e evea che è appunto la pianta da cui otteniamo questa gomma naturale. L'idea di creare un tessuto elasticizzato, biodegradabile e addirittura compostabile ci è venuta per il semplice motivo che crediamo nel fine vita e nelle proprietà che le risorse, le stesse risorse con cui viene realizzato un tessuto e quindi un capo, possano essere trasformate e ritornate alla natura alla fine del ciclo vita di quel capo in modo positivo per avere un impatto quindi positivo. In questo caso i tessuti coreva alla fine della propria vita possono essere trasformati in fertilizzanti organici per essere applicati in agricoltura, ad esempio per ricrescere il cotone stesso. In questo istante ci troviamo nel centro di Milano, a 37 chilometri di distanza dall'azienda e in questo negozio dimostriamo un altro principio della circolarità. Combattiamo la sovrapproduzione nel modo più efficace, ovvero producendo dei capi su misura. Quindi il cliente viene a trovarci, prova dei capi, abbiamo numerosi fit che vengono poi adattati al suo corpo, può scegliere il tessuto, può scegliere il trattamento, può scegliere tutti gli accessori fino al colore del filo per le cuciture in modo che il cliente possa apprezzare il contenuto di quei jeans. E il modo più efficace per farlo apprezzare è renderlo visibile. E in questo laboratorio nel centro di Milano c'è proprio possibile renderlo visibile trasformando i nostri tessuti in jeans.